No raga, sembra proprio... c'è niente da fare, sembra proprio un gessetto ma quelli delle lavagne, delle medie, non mi piace Step, uno step, uno step a destra, uno step a sinistra, tutto a step Io non lo so cari e care, non lo so cosa mi sta succedendo ma non mi sta piacendo neanche tanto sto colore qua Cari e care, non li ho capiti Allora, o sono unicamente per dark skin Che fatica cari e care, che fatica cari e care Salve a tutti cari e care, ben ritrovati Sono in bianco e nero perché non vi voglio spoilerare il look che sono andata a realizzare con la Icy Nude E bene si cari e care di Huda Beauty Si vocifera che sia l'ultima palette grande di Huda Queste sono le voci che girano e quindi siccome stiamo parlando di un range di nude tendenzialmente freddi Non potevo assolutamente non fare un look con questa palette Faccio questa introduzione per dirvi che Prima cosa, sicuramente una palette del genere andrebbe approfondita con svariati look Oggi infatti ne ho fatto uno solo perché è parecchio difficile, grafico e in più ho degli impegni successivi Quindi non potevo fare il bi-look Quindi mi dovrete far sapere durante il video se volete rivederla con altre tipologie e altri stili di make-up Secondo punto di premessina cari e care Concedetemi il fatto che Ultimamente mi state chiedendo Erika ci fai il video su questa palette? Ci fai il video sulla denona, quella viola? Ci fai il video su questa? Ci fai il video su quell'altra? Allora, fermi tutti cari e care Noi siamo uni soli, stavo dicendo E chi fa questo lavoro appunto sa che è un disastro Soprattutto ultimamente Perché è bellissimo ricevere una montagna di cose È bellissimo occuparsi di make-up e fare questo lavoro Però cari e care, io almeno parlo per me stessa Io non riesco a stare dietro a tutto Non riesco a star dietro ad ogni uscita Perché qui c'è un'uscita Ma che ogni settimana? Cioè qui c'è un'uscita ogni 3-5 giorni se tutto va bene Se io dovessi farvi il video per ogni uscita che esce Che esce ovviamente Dovrei lavorare anche di notte, capite? Quindi io sono felicissima che voi vi fidiate di me Perché mi scrivete queste cose E che volete i miei video Però vi volevo dire Eccoci arrivati al punto Che io cerco di preferire le cose che sono più in hype Così da essere utili E poi sono sincera anche le cose che mi inviano Cioè cari e care Volete la sincerità? Dai content creator, dagli influencer Eccola qua Cioè è ovvio che se un brand mi si fila Sono molto più contenta di dedicargli un contenuto Quindi per esempio la palette della Denona Io non credo, siccome ne manco mi ispira Non penso, almeno per adesso Non penso che spenderò cento e quanti euro per prenderla Perché non mi ispira nemmeno chissà che Fosse stata tutta viola Probabilmente le avrei spesi Fate le mie premesse cari e care Vi lascio al video E quindi ci concentriamo su quello Io ho sudato parecchio per questo look Ma ne vale la pena Perché guardandomi allo specchio Mi piace Quindi cari e care Vi lascio al video E non perdetevi le considerazioni finali Eccoci qui cari e care Allora partiamo subito con la base Io l'ho preparata con questo stiero di MAC L'Hyper Real Serumizer E poi dopo averlo fatto asciugare un pochino Sono andata con lo Skin Perfect Hydra Primer di VIP Makeup Che è veramente veramente un ottimo primer Questa combo mi piace molto perché mi permette di creare una base bella idratata Ma nel contempo non grassa o comunque che faccia strato Perché cari e care come anticipato Andiamo a provare questo fondotinta qui di She Glam Che si chiama Complexion Pro Long Lasting Breathable Quindi un fondotinta matte opaco Che promette un'alta coprenza Infatti lo andiamo a provare anche sul tatuaggio Perché bene si dice questa cosa Però che lascia respirare la pelle Allora io adesso vi faccio vedere le tre colorazioni chiare Quindi mi fa sempre molto piacere essere un punto di riferimento Per quanto riguarda la pelle Particolarmente chiara Perché io ve lo dico spesso Dal vivo è ancora peggio Fra virgolette Io sono molto chiara Soprattutto quando vengo messa in confronto alle altre persone Quindi se qui mi vedete un po' colorata È perché il bilanciamento del bianco si autosetta Però sono contenta del fatto che con gli swatches Dei rossetti, dei fondotinta, dei correttori Tante persone si trovino contenuti utili per questi motivi Perché magari ad altre persone un colore sembrava una cosa E su di noi tutt'altra Quindi vi faccio vedere le tre colorazioni chiare che ho io C'è porcelain Poi c'è chantilly E poi c'è fair Queste sono le tre colorazioni che a mio parere Si avvicinavano maggiormente al mio incarnato Ne metto pochino appunto E partiamo cari e care Allora per quanto riguarda porcelain Devo dire che forse ci siamo Sì 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 Si direi di sì Non è rosato effettivamente Però è piuttosto neutro Ecco una cosa che ho già detto In tempi non sospetti Ma forse anche l'altro ieri Ecco sapete cari e care che io penso con la mia testa E una cosa che mi sento di dirvi senza problemi È che i brand asiatici Sono ottimamente forniti di colorazioni chiare Questa è una cosa che dico da tantissimi anni Cioè non questa nello specifico Ma il fatto che tanti brand italiani Tra l'altro nello specifico Non parliamo poi degli americani Pensano che la persona chiara Parta non lo so tipo da questo colore Col fondotinta E invece noi siamo così Quindi esistiamo anche noi Sappiate che non è scontato Non è assolutamente scontato Che esistano fondotinta di questo colore Lo sapete bene Se siete chiari anche voi O anche se siete estremamente scuri Allora cari e care Mi sono soffiata il naso Quindi vi ho lasciato proprio la clip Per farvi vedere Quindi appunto non sono andata a metterla a posto Per farvi vedere che la situazione non è critica Vedete? Ecco io ho fatto un maggiore zoom Di solito se mi soffio il naso E questo è un test che è effettivamente molto utile Succede che magari mi si crepa In una maniera pazzesca Se un fondotinta non è buono Naturalmente non è come dico io Si crepa tanto E crea dei problemi Molto più gravi di questi qua Invece devo dire che la situazione qui Non è stata per niente male Allora andiamo a vedere la texture cari e care Perché qui abbiamo Il viso che mi piace La fronte un po' meno Dato che abbiamo la telecamera faiga Vi faccio vedere come Sebbene la fronte fosse ben idratata Comunque non so se notate Ma abbiamo il fondo che è un pochettino nei pori Dentro i pori se n'è andato Quindi qui sulla fronte Non mi fa impazzire Proprio per il fatto che Non è uno di quei fondi che va a piallare E riempitivo Ma appunto Lascia intravedere la texture E soprattutto si deposita nei pori Allora per non perdere due ore E fare un tatuaggio più importante Andiamo a vedere come si comporta Su questo qua Sul polso Devo dire che la coprenza c'è Sapete poi Per quanto riguarda la copertura Tatuaggi Non è nemmeno Solo ed esclusivamente la coprenza Ma cari e care anche La tenuta Questo è aperto Vedete adesso ci faccio Uno strato di cipria Che è come facciamo in Accademia E poi faccio un altro strato Quindi cipria E secondo strato di fondo Ok cari e care Questa è la situazione Ve la faccio vedere anche zoomata Allora purtroppo Per fortuna o chi lo sa Nel senso così sono fatta Il mio polso è ancora più chiaro Della mia faccia cari e care Quindi mi ci vorrebbe Ancora un colore più chiaro Per il polso Quindi diamo solo un occhio Alla coprenza Devo dire buona Quindi è vero Che ha un'alta coprenza Io oggi non avevo discromie E quindi vi volevo far vedere Sul tatuaggio Ci siamo cari e care Siamo approdati Al momento X Che tutti voi aspettavate Guardate che bellissima pochette Che mi ha inviato È troppo bella O meglio non è una pochette È proprio Cioè tipo Sì una borsetta Erika Non era difficile Ecco Troppo bella E oggi cari e care Rullo di tamburi Rullo di tamburi Ta da 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 Icy nude palette Sono troppo contenta Troppo contenta a cari e care Perché Anche qui ci sarebbe Un bel discorso Ovvero il fatto che ultimamente Va praticamente solo Il make up nude E questa cosa Non è che a noi Make up artists Proprio ci sconquinferi Nel senso A me piace molto il nude Soprattutto freddo Quindi io con questa palette Ci sguazzo totale E quindi non vedevo l'ora Per questo motivo Di provarla Anche perché Essendo una professionista Va da sé Che a noi i nude Proprio ci Ci toccano le corde dell'anima Perché ci capita di utilizzarli Soprattutto se Stiamo parlando di trucco Beauty Bridal Correttivo Abbellimento e sposa Va da sé Che ci capita di utilizzare Meno i fucsia Ok Verde lime Eccetera Ma queste palette Sono proprio la nostra cosa Però sicuramente Sono d'accordo Sul fattore Che ultimamente Vada praticamente Solo il nude Ribadisco Noi siamo contenti Però dal punto di vista Artistico Ci sono stati anni Più divertenti Allora Partiamo subito Cari e cari Dallo schema Colori Che ribadisco A me piace tantissimo Perché le prime cose Che vedo io Sono tutti colorini Chiari Tra l'altro Da chiari a medi Vedete Cioè non c'è uno scurissimo Questi due sono abbastanza scuri Però comunque non è una palette scura E di questo io sono contenta Perché naturalmente Io preferisco Anche per il lavoro Detto questo Per quanto riguarda Questi colori chiari e medi Abbiamo diversi sottotoni Vedete Quindi Mi piace un sacco Che Uda Ci abbia inviato Delle ispirazioni Dentro questa Letterina Praticamente E mi ispirava un sacco Sia il look di Uda Vi dirò Ma per fare qualcosa Di diverso E non annoiarci Oggi vorrei fare Questo look splendido Quindi ci proviamo Anche se è una sorta Di orzaiolo Qui non so Cosa cavolo sia Ma in ogni caso Mi devo truccare per lavoro Quindi partiamo Ok sono partita con un primer Questo qui è l'iPrime Di Mia Makeup Devo dire che nessun primer Mi ha mai sconquinfratto In vita sua Questo però Si comporta bene Che recensione era? Non so Ho messo un primer e basta Beh intanto Il pack Mi piace tantissimo Cari e care Uno dei più belli Di Uda Vi devo dire Proprio elegante Con questo sfondo Marrone Violaceo Veramente bello Poi c'è da dire Che non è che sia Tutta completamente Fredda Questa palette Cioè sicuramente In maggior parte Fredda Però vedo anche Delle cose Su base rossa Allora avrei voluto Iniziare con una matita Caricare Per creare Questa situazione grafica Ma mi sono detta Stiamo comunque Testando la palette Quindi proviamo a fare Proprio tutto ad ombretti E vediamo Come funziona La situa Allora Prendo She rich E vado A crearmi Appunto La forma Che vedo Nella foto Quindi she rich È questo colore Marrone Ma nel contempo Anche un po' viola Aspettate che nel frattempo Devo anche vedere Come look Ok Ha proprio questa parte Che si congiunge Con la parte sopra Quindi meglio che ci andiate Con un pennellino Di precisione Ed è necessario Un primer O correttore Un pochino Appiccicoso sotto Se no fate poco Cambio pennello Perché mi serve Ancora più piccolo Di precisione E rigido Quindi prendo Questo qua di benefit Per le sopracciglia E la cosa Che più Ci divertirà Caricare È farlo uguale Di là Dopo Più o meno Siamo ad una cosa Del genere Allora io adesso Vado di là Perché se faccio Un make up Stupendo di qua E poi lo faccio Che di là Non è uguale Questa è una cosa Che dico spesso In accademia Ai miei allievi Fare uno step Uno step Uno step a destra Uno step a sinistra Tutto a step Vi aspetto ai miei prossimi corsi Su Torino Da 2025 Mi raccomando Prenotate il vostro posto Quindi prima parte Del 2025 Su Torino E poi si ritorna In autunno-inverno Su Milano 70 anni Per farla Più o meno Uguale Cari e care E quindi Quando sento Che il nostro Lavoro Non è un lavoro Vero Blah 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 Ecco capite Capite in questi momenti Perché Ci ingazziamo Allora detto questo Adesso Ripasso un pochettino Di primer Questo qui è buono Mi piace parecchio Con un pennello piatto Lo passo bene All'interno Di queste linee E vado adesso A mettere Il colore chiaro Qui all'interno Quindi ho messo Il primer Per far sì Che il colore chiaro Non se ne vada Everywhere Tradotto Che non mi Smaroni Tutto Tutta la fatica Che ho appena Realizzato sopra Allora Qui abbiamo Una base Di bianco Che in realtà È sì Questo bianco qui Avalanche Pensavo fosse un bianco Diverso Cioè nel senso È un bianco Allora sappiamo tutti Che gli opachi Di Uda Sono praticamente La sua debolezza Fra virgolette Cioè sono comunque Degli ottimi Ombretti Anche se questo Non mi sta piacendo Allora Io ve l'ho detto Il primer che ho messo È assolutamente ottimo Quindi guardate Cosa sta accadendo qua Cioè è proprio Gesso Gesso Che fa anche fatica A stratificarsi Vedete Non è bello Questo Avalanche qui Devo essere onesta No raga Sembra proprio C'è niente da fare Sembra proprio Un gessetto Ma quelli Delle lavagne Delle medie Non mi piace Ma vedete Cioè può anche essere Color gesso Lui eh Se vuole Però non mi deve fare Tutte queste Discoromie qui Che il colore Si separa Proprio a stile Gesso Che è secchissimo Ok Noi abbiamo fatto così Cariacare Però a me Avalanche qui Ma non mi è piaciuto Proprio per niente Mi dispiace Va detto Da questa parte Provo Con il ditino Che alle volte Anche i matt Vengono meglio Col ditino Ma no Cioè questo colore Cariacare ancora peggio Questo proprio non si salva Avalanche qui È brutto Mi dispiace Se voi adesso Entrate in una scuola E prendete un gesso Un gessetto Potete fare Questo trucco Allora adesso Se andiamo a vedere Questo look qui Qui sopra Abbiamo un po' Di rossiccio Vedete Che mi sembrava La sfumatura del viola Ma in realtà Questo viola qui È parecchio freddo Quindi io ci andrei Con Anapologetic Ovvero Questo colore rossiccio E nel frattempo Che sto pulendo Un pochettino Il disegno Col correttore Cariacare Vi ricordate Questi pennellini Qui di MAC Che non mi erano Piaciuti per Applicare il correttore Sotto l'occhio Quindi sull'occhiaia Perché non sfumavano Troppo Ebbene Cioè questo è pazzesco Per andare a pulire Il make up I make up Un po' più grafici Magari qui sotto Sotto il sopracciglio Perché appunto Sfumano poco Quindi riuscite a gestire bene La pulizia Attorno al make up Allora Andiamo a fare questa cosa Che stavamo dicendo Aggiungere Un po' di sfumatura Rossiccia All'estremità Del nostro make up Io lo sapevo Che i matt Di Uda Sono sempre stati Un po' secchini Cioè non è che non lo sapessi Però cari e care Sì Abbiamo scelto Anche un make up Difficile Non dico Non dico nulla Ma rimane il fatto Che in ogni caso Questo bianco Fa schifo E i matt Sono difficili Allora Ho utilizzato She Rich Anapologetic E anche una puntina Di Fox Fofur Eccola qua Quindi sicuramente Tre marroni Bellissimi Interessantissimi Il colore È stupendo Perché Tu davvero Puoi fare la qualsiasi Praticamente Con quei tre marroni Che sono perfettamente Coerenti In una palette del genere Perché se questo È base rossa Vabbè Però questi Hanno una base Violacea Vedete Quindi sono Perfetti Perché sono Freddi Cioè questa palette È bellissima A vedersi Poi ho un po' Di dubbi Sul fattore Utilizzo Reale O meglio Noi stiamo facendo Questo look Che di certo Non è facile Magari La proveremo Anche per un bride Al classico Però fidatevi Che alle volte Quando fai I look estremi In ogni caso Metti proprio Alla prova Davvero una palette E anche queste sfumaturine Qui sopra Non è che siano Facilissime Da realizzare E appunto Gli opachi Sono secchini Come sempre Quelli di Uda Quindi Non sono morbidosi Cremosi Diciamo La verità Che Quando Gli opachi Sono un po' Più secchini C'è la probabilità Che durino di più Quindi che vi facciano Meno pieghette Che questo make up Qui mi rimanga Fino a domani Quindi bisogna dire Quello che è Nel senso che Se un matte È molto cremoso Probabilmente Te lo ritrovi qui Dopo due ore O ti fa le pieghette Se fai uno smoky Allora Su questo nostro look Della foto Abbiamo La bordatura Anche inferiore Che mi arriva Anche ad inizio Occhio È la terza volta Che dovrei Utilizzare I pennelli Di Omar Turrini Per clavier I pro Solution E me li dimentico Io non sono normale E finalmente Ci siamo Ecco dai Recuperiamo Riusciamo Da qui in poi Tra l'altro Omar Turrini Grande professionista Nonché collega E quindi Sono assolutamente In curiosità A manetta Per i suoi pennelli È solo una questione Di memoria Omar Pardon Ma guardate un po' Ma io lo sapevo Perché anche a lui Piacciano le cose Proprio dettagliate Guardate questo Pro 2F Cioè guardate Questo che cosa Non è È difficile Trovare pennelli Di questo tipo Infatti Per questo Io ero Particolarmente Interessata Appunto A questa collezione E adesso Andiamo di Iced out Perché vedete Che dobbiamo aggiungere Lo shimmer Che ce l'ha Sia qui Che sotto Quindi Questo shimmerino Che mi vira Sul viola per vinca Di sicuro È iced out Che io Riesco a vedere Da qui Vedete Essere con le perlescenze Appunto Viola lilla Eccolo qua Uda Da il meglio di sé Con gli shimmer I metallizzati I colori stranoidi Ma questo Lo sapete già E allora Vediamo Se basta Averlo Asciutto Perché si attacchi Bene O se dobbiamo Bagnarlo Perché Questo colore Viene appunto Applicato Sopra La parte Inferiore Cioè la cosa bella Di questo pennello Qui Pro 2F Della collezione Omar Turrini Per Clavier È che voi potete Utilizzarlo Sia di profilo Così Per applicare le cose Fare le linee Fare l'eyeliner Sfumato E poi anche Di punta Per sfumare Quindi Pazzesco Io lo sapevo Che ci sarebbero state Delle chicche incredibili Quindi Complimenti Omar Anche se sto Provando solo questo Ma già lo amo Poi abbiamo Questo interessantissimo 15F Che è fantastico Anche per togliere Il fallout Qua sotto Fallout Minimo Nulla di Esagerato No Vabbè Ma guardate Guardate Che pennelli Di precisione Che ci ha cacciato Omar Cioè abbiamo Anche questo Bellissimo Questi finiscono Nel mio kit Professionale Il Pro 1F Guardate che bello Anche questo Piccolino Differente dall'altro Perché l'altro Il 2F Che comunque Vi iper consiglio Perché questo è più Introvabile Tutti e due Difficilmente trovabili Così E sto notando Naturalmente di qualità Ma non avevo Dubbi Allora Vado a prendere Un ventaglietto Quindi mi serviva Un fluffy Questo qui È l'11F Quindi secondo me È perfetto Sempre Solito Ombretto Eccolo qua Che adesso Vi dico se mi sta piacendo Oppure no Mi tengo la foto E lo vado Ad applicare qua Non so se bagnarlo Qui è Cariacare Vediamo Vado con questo Di pennello Spruzzato con il Setter CEO Di Mulac E sto andando Qua sotto Perché mi serve Appunto Un po' più Di situazione Power Di payoff Io non lo so Cariacare Non lo so cosa mi sta succedendo Ma non mi sta piacendo Neanche tanto Sto colore qua Cioè Lui è bello Per carità Però Anche con il setter CEO Cioè mi si sta Spatasciando Tutto in palette Vedete E sembra quasi Che non si prelevi Sul pennello Non so cosa sta succedendo Oggi Magari la giornata La ritenteremo Poi si fa a pezzi Vedete Una menzione d'onore A questi pennelli Che hanno anche Questa parte Dove tu li puoi Impugnare Cioè potrebbero Veramente rischiare Di diventare I miei pennelli Preferiti Perché Cioè veramente Anche l'impugnatura Stavo notando Che era estremamente pratica E mi domandavo perché Poi ho visto Questa cosa qui Vedete Questo rientro Che hanno tutti Quindi anche questo No è comodissimo Adoro Poi anche qui cari e cari C'è un'altra cosa da dire C'è qui lei Lei ha la zona Del dotto lacrimale Illuminata Molto bella Ma sembra proprio Illuminata solo Con il bianco ottico Ma non è così Cioè nel senso Che non esce così Questo bianco ottico Non è bello così Quindi capite bene Che boh Quei make up Sono stati fatti Con altri Con altri ombretti Non lo so Fatto sta Che io questa palette Devo utilizzare E quindi Faccio un mix Con questo E quello rosa Sotto Vedete Perché se no Non mi uscirà mai Una zona illuminata Con quel bianco Gesso Brutto Perché ribadisco Che è brutto Che fatica Cari e care Che fatica Cari e care Io ho fatto fatica Allora Ho messo Per rimanere in tema Oda Beauty Il One Couch Wow Mio mascara Preferito Appunto Sì direi proprio Degli ultimi anni E poi Due ciuffetti Di clavier Di ciglia finte Di questo Brand qui E loro nello specifico Sono le V shape Extreme Pazzesche Le ho portate anche in accademia Le ragazze Piacciono tantissimo Vado avanti col make up Poi ne parliamo alla fine Di questa palette Perché avete visto C'è da dire Un'altra uscita Che non ho ben capito E PS Mica ce l'ho Con una Con Uda Beauty Anzi Io direi che Ringrazio tantissimo Il brand Perché Mi invia Tutte le novità E quindi Poi c'è delle cose Pazzesche Che io amo Di Uda Però Non ho ben capito Neanche questi Liquid blush Ve li immaginate Sul mio incarnato Questi? Che dire Io sono molto Indecisa Se provare ad usarli Oppure no Però Proviamo a metterlo Come Contour Proviamo Speriamo che il pennello Di Omar Ci aiuti E qui abbiamo Cari e care Un 18 Pro 18F Proviamo ad andare di lui Mamma mia Quanto sono belli Questi pennelli Di Omar Faccio veramente Buon profumo Però Tipo Fruttato Cari e care Non li ho capiti Allora O sono Unicamente Per dark skin Questi blush Qui E va bene Tutto Però Sì non li ho capiti Ripeto Scrivetemi se per caso Non ho capito qualcosa Io lo metto un po' così Stile livido Oggi andiamo Di questa situa Perché Non saprei Come altro Utilizzare Coco Loco Per carità Sto pensando Che al mio lavoro Che sicuramente Potrebbe essere molto utile Questo colore Su dark skin Questo Potrei Mettermelo nel kit Vabbè È andata così Cari e care Nemmeno Voglio dire Gravissima La situa Praticamente ho utilizzato Un blush come contour Comunque andiamo avanti Io spero veramente Che questo video Aiuto Mi fa un po' paura Questo video Comunque Face gloss Quindi andiamo con Quest'ultimo prodottino Che mi ricorda molto Cari e care Un prodottino Che era già uscito Però questo qua Diventa tipo Fucsia Perché mescolato C'ha queste Zone qui E dovrebbe darti Quell'effetto Di film idrolipidico Quindi di pelle Ben idratata Però vedete Diventa anche un po' Fucsino Dai Siamo vicini ad Halloween Oggi È andata Così Non ho la minima idea Di come io possa Fare un video dopo Non avete nemmeno idea Della tematica Del video Che devo fare Tipo una roba seria Scherzi a parte Questo qui è anche carino Semplicemente sotto Avevamo anche una situazione Bella appesa Quindi dai Riproveremo queste cose Anzi Fatemelo sapere Con un commentino Se volete vedere La Icy Nude Che secondo me Comunque ha del potenziale Anche in situazioni Più bridal Per esempio Fatemelo sapere E mi segno Di farvi il video Allora oggi Andiamo in all in Cari e care E quindi facciamo Anche questa combo Marrone perché ultimamente Sono parecchio infissa Col marrone per le labbra Quindi vado di rich brown Appunto di Uda Bellissimo anche questo marrone Ve la consiglio Ve la consiglio se vi piacciono Questo carrone Questo carrone Rispetto a quelli Della collezione Precedente Allora cari e care Che dire Collezione Molto strana Molto strana Molto strana Ci sono tante cose Che potranno piacere Sicuramente Ad incarnati Più Scuri Di me Certo che è strano Che lanciare una palette Che si chiama Icy Nude Con cose Così scure Non l'ho proprio capita Sicuramente Ciò che ho apprezzato Tanto di scure Questo gloss Perché vedete È bellissimo Quindi in abbinamento Con la sua Witch brown Che le matite labbra Di Uda Mi piacciono molto Assolutamente Questa combo Ve la iper consiglio Perché potrebbe Diventare la vostra combo Preferita appunto Del vostro autunno Inverno Allora passiamo Alla palettina Cari e care Perché del resto Avete visto tutto Palettina bellissima Nel pack Tra l'altro Girano voci di corridoio Che sia l'ultima Palette così grande Che farà Uda Quindi ero sicuramente Interessatissima Nella sua recensione E come vi ho già detto All'interno del video Fatemi assolutamente Sapere con un commentino Lo farò solo Se sarete in tanti Quindi scrivetemi L'hashtag Icy Nude Bridal Se volete vedere Un look più sfumato Più nelle mie corde Con questa palette Perché effettivamente Oggi abbiamo Si sfumacchiato Ma ci siamo più Concentrati Su una questione Grafica Questione grafica Che in ogni caso Mette alla prova Una palette Questo è poco Ma sicuro E infatti ho fatto fatica L'avete visto Durante il video Lo sapevo già Che i matt Di Uda Beauty Sono comunque secchini Lo sono Sia nelle palette grandi Che nelle palette piccoline Quindi Uda Beauty Su questo È coerente Quanto meno Perché vuol dire Che le piacciono così I shimmer Ne abbiamo usati pochi Ma per esempio Questo qui è Poised Questo qui è VVS Aurora Cioè guardate Non ho dubbi Che questi colori qua Saranno Sbam Una roba Allucinante Perché Gli shimmer Di Uda Appunto Sono Pazzeschi Chiamo sicuramente Approfondirla È una palette Che mi interessa Sicuramente Perché ci sono appunto Tutti quei marroncini Con i sottotoni Vari Ribadisco Che le palette Di Uda Beauty Non sono tra le mie palette Preferite Questo lo dico Anche se ricevo Dal brand Io cerco sempre Di essere sincera Sia per quanto riguarda Gli ADV Che i PR Cari e care Non ho assolutamente Alcun problema E detto questo Sono però Delle palette Che io apprezzo tantissimo Soprattutto nel range Di colori E per quanto riguarda I colori stranoidi Che alle volte Devo proprio tirare fuori Una palette di Uda Per trovare quel colore Pazzesco Che non ha nessuno Per me Avalanche Qui è assolutamente Inaccettabile Perché è come andare a comprare Proprio in cartoleria Un gessetto Bianco Cioè questo non è un ombretto Un gessetto Bianco Della lavagna Cioè non è accettabile Caricare una roba del genere Volete acquistare Le palette di Uda Sappiate che I matt sono un po' più secchini Però durano di più Di altri matt Che vedete in giro Cremosini Che durano niente Quindi questo Già ve lo dico E quindi Sono delle palette Che voi dovete provare Su voi stessi E anche sugli altri Per vedere Se riuscite ad arrivare A quel livello Di sfumatura Che vi piace Tramite Questo livello di secchezza Dovete capire un po' Questa cosa Perché è tutto un po' relativo Se rimangono di più Meglio Però bisogna riuscire A sfumarli bene Comunque Non è che sia uscito male Questo look Quindi Alla fin fine È sicuramente una palette Che mi interessava tantissimo Che vorrò Riutilizzare Quora Anche questo video è terminato Io direi che L'abbiamo creato Ad hoc Per farlo uscire Per Ce la facciamo Per Halloween Beh Se non è proprio Proprio per il giorno Di Halloween Io direi che Comunque Fa Atmosfera In questo periodo Sono sicuramente Dei colori Che mi piacciono Molto Voi lo sapete E tra l'altro A livello di gloss Ce ne sono altri due Che sono molto interessanti Perché hanno delle Ridoscenze particolari Quindi ecco sì qui bisogna sicuramente eventualmente riprovare tante cose cari e cari io spero che questo look vi sia piaciuto anche se è stato complesso fatemelo sapere qui sotto nei commenti fatemi sapere se lo indosserete e comunque se secondo voi è bello e noi ci vediamo nel prossimo video che speriamo vada meglio bye